Gentili telespettatori, buona giornata. La sfida del programma nel centro-destra. Sappiamo che nel centro-destra ci sono tre capi politici che vogliono comandare, questo l'abbiamo capito da tempo. Adesso c'è la sfida sul programma perché realmente chi ha più voti nel centro-destra è Fratelli d'Italia che dovrebbe decidere l'intellaiatura del programma elettorale del centro-destra. Meloni parla di semipresidenzialismo, Salvini vuole quota 41, Berlusconi vuole le pensioni minime a 1000 euro, ma vediamo quali sono i problemi nel trovare una quadra per il programma comune. Fratelli d'Italia propone una forma di governo in cui il Presidente della Repubblica viene eletto direttamente con un sistema a doppio turno. Nomina il Premier e presiede il Consiglio dei Ministri. Pertanto un Presidente della Repubblica che è presente proprio nei CDM, quindi una novità abbastanza importante, un vero e proprio capo di governo come negli Stati Uniti. C'è poi la sfiducia costruttiva alla tedesca. Il Parlamento non può sfiduciare il governo se non indicando anche un nuovo primo ministro, quindi una riforma importante proprio del governo, del sistema di governo in Italia. Un'altra proposta che Meloni intende portare avanti sulle politiche del lavoro si basa sul concetto più assumi meno paghi. Più alta è l'incidenza dei dipendenti in rapporto al fatturato dell'azienda, meno devono essere le tasse che ricadono sull'imprenditore. Secondo Fratelli d'Italia questo si può fare con la super deduzione del costo del lavoro e con la riduzione dell'IRES, l'aliquota, sui redditi della società. Però questo non affronta il problema degli stipendi bassi in Italia. Fratelli d'Italia punta poi alla cancellazione del reddito di cittadinanza e propone una riforma degli ammortizzatori sociali. Il reddito di solidarietà consiste in un assegno da 650 euro ai non occupati over 60 e a famiglie con minori o persone con disabilità, ma solo per chi ha un ISEE inferiore ai 15.000 euro all'anno. Il sostegno a chi perde il lavoro inoltre verrebbe parificato tra dipendenti e coloro che hanno una partita IVA. Questo punto è importante, lo approfondiamo dopo. Intanto per quanto riguarda la Lega, la Lega vuole punta su quota 41, la possibilità di andare in pensione dopo 41 anni di lavoro, indipendentemente dai contributi versati. Altro cardine del programma è la flat tax, l'aumento del tetto di reddito fino a 100.000 euro. Oggi è 65.000 euro per le partite IVA e l'estensione della tassa piatta alle famiglie con l'introduzione del reddito familiare che sostituisca quello sulla persona singola. Attenzione che qua ci sono dei giochini, se voi fate pagare una tassa sulla famiglia, io questo l'ho già sentito in passato, c'è gente in Italia che per avere dei benefici si divorzia, anche se in realtà non vogliono il divorzio, si divorziano per beneficiare di alcune cose. Qui potrebbe essere poi la stessa cosa. Se tu mi dici io ti faccio pagare una tassa in base alla famiglia, ci potrebbero essere persone che cercano il modo poi di pagare meno tasse fregando lo Stato. Ecco, qui bisogna stare attenti a dire mettiamo l'introduzione del reddito familiare. Più la famiglia è grande, meno tasse si pagano. Insomma, bisognerebbe valutare bene se lì non si possano annidare poi delle truffe. La tassa piatta vuol dire poi che ad esempio un 15% lo paghino tutti, indipendentemente da quanto guadagni. Questo è uno dei sogni di Salvini, la flat tax, che è una scommessa. Potrebbe portare a un aumento dell'economia tale da poter recuperare l'abbassamento delle tasse o potrebbe non funzionare e lo Stato può non avere i soldi che aveva prima con le tasse e quindi avere dei gravi problemi per pagare il debito. La flat tax è una scommessa. Nessuno sa se poi il risultato è di un certo tipo o no. Salvini parla sempre di eliminare, anche Salvini vuole eliminare il reddito di cittadinanza e riservare quei fondi a famiglie e imprese. L'idea è di destinare metà di quanto già investito, 5 miliardi alle aziende per creare nuovi posti di lavoro. Inoltre la Lega vuole aumentare i sussidi per le persone con disabilità e arrivare alla cosiddetta pace fiscale, cioè un condono con la cancellazione di tutte le cartelle esattoriali. Tutte. Quindi Salvini vuole cancellare i debiti di Equitalia, cioè i debiti che gli italiani hanno con lo Stato, cancellarli tutti, fare un gigantesco condono che però poi è controproducente perché facendo un condono a tutti gli italiani su tutte le cartelle esattoriali è un brutto segnale. Allora, chi aspetta la cartella esattoriale fa i salti di gioia e poi magari vota Lega. Però questo è un incentivo a farlo di nuovo, nel senso che se tu avevi un sacco di cose da pagare che non avevi pagato e arriva il politico di turno che ti cancella tutto per essere votato, poi voi alla prossima cosa che dovete pagare ti dite no aspetta un momento, non pagarla, tanto prima o poi magari arriva qualche politico, magari non sarà più Salvini ma sarà qualcun altro che mi fa un altro condono. Quindi tu non pagare, accumula, tanto vedrai che arriverà un altro condono. Diciamo che fare il condono, già cambiargli il nome in pace fiscale, qui non c'è da fare una pace perché non è una guerra fiscale, se tu devi pagare e non hai pagato una tassa non è che lo Stato ti fa la guerra, tu la devi pagare la tassa, quindi quel pace fiscale non è propriamente corretto. Si dice condono, tu mi devi dare dei soldi allora non darmeli, ti condono, è come dire ti perdono, ti condono. Cambiarlo in pace fiscale non è propriamente corretto. Intanto non può essere sul tavolo il ripristino poi dei decreti sicurezza e la piena ripresa dell'operazione strade sicure. Sul piano energetico invece Salvini punta sul nucleare oltre che sullo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale esistenti e sulla realizzazione di rigassificatori, ma c'è un ultimo punto su cui la Lega non farà passi indietro, l'autonomia differenziata per le regioni. Quindi sul tavolo niente decreti sicurezza da quello che si evince. Intanto mentre Berlusconi il primo impegno vuole puntare alla pensione minima a 1.000 euro, anche Forza Italia vuole destinare altrove le risorse del reddito di cittadinanza e in particolare punta all'abbassamento del cuneo fiscale e agli incentivi sulle imprese. Nel programma c'è poi la diminuzione dell'IRPEF con l'obiettivo flat tax, una tassa pianta dunque con scaglioni con un'aliquota al 25%, non al 15% come pensava Salvini. E poi sul piano delle infrastrutture si pensa alle grandi opere, il ponte sullo stretto di Messina eccetera eccetera. Bene, e poi più gas a livello nazionale, meno burocrazia per gli impianti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.